Dottor Agostegnani, con questo caldo quali sono le raccomandazioni per i bambini più piccoli per evitare ondate di calore, in primis il buonsenso? Sì, vabbè, il caldo in questa annata è particolarmente rilevante, ma le raccomandazioni restano sempre e comunque quelle che abbiano dato tutti gli anni. Giustamente il richiamo principale è al buonsenso. Buonsenso vuol dire che bisogna evitare l'esposizione dei bambini nelle ore più calde e più assolate della giornata. È importante comunque farli uscire, privilegiando però le prime ore del mattino e la sera, possibilmente in zone dove ci siano degli alberi, chi abita in realtà dove ci sono vicini dei boschi, quelli sono i posti migliori perché la presenza di piante riduce anche i livelli di ozono e quindi è sicuramente il posto migliore dove tenere i bambini. Poi le raccomandazioni di carattere generale restano sempre quelle di farli bere molto perché i bambini per loro caratteristica sudano molto ed è un meccanismo di difesa al calore, ma questo comporta perdita di liquidi, quindi bere è estremamente importante, mangiare cibi freschi, molta frutta, molta verdura. Io dico sempre che il miglior antisolare è l'ombra. Quali sono i rischi maggiori? Soprattutto per esposizioni molto prolungate possono essere a livello cutaneo, da avere dei danni dall'esposizione diretta alla luce solare e sulla cute. E poi fino ad arrivare a forme estreme che sono il colpo di calore che può essere anche una patologia estremamente rilevante. Per chi porta i bambini in vacanza, al mare, naturalmente creme solare ad evitare appunto le ore più calde. Sicuramente sì e poi stare in acqua è cosa che aiuta e quindi quando è particolarmente caldo la presenza in acqua va bene. Ricordarsi quel che abbiamo detto prima, in certi momenti della giornata bisogna stare all'ombra perché il sole è eccessivo. Poi se si portano i bambini in montagna, i bambini stanno forse per certi versi meglio in situazioni nelle quali il clima è più gradevole ed c'è comunque la possibilità di giocare e di divertirsi anche in situazioni non con la presenza del mare. Grazie.